Non abbassa i livelli di guardia la DDA di Catanzaro sul rischio infiltrazioni di cellule terroristiche sui sei distretti di sua competenza, senza però fomentare quelli che al momento sono inutili allarmismi. Da giorni i reparti investigativi delle Forze dell'Ordine stanno lavorando gomito a gomito, riessaminando le emergenze emerse in indagini passate. In fondo di inchieste sul terrorismo internazionale ce ne sono più di una negli uffici della Procura di Catanzaro. A marzo scorso sono stati sigillati computer, notebook, smartphone, simcard, libri, molti casi in lingua araba, a tre giovani magrebini sotto accusa per associazione con finalità di terrorismo anche internazionali. Documenti dissequestrati per decisione del Tribunale del Riesame. Un mese dopo, un nuovo sequestro, qui è seguito un dissequestro bis. Secondo gli investigatori, i tre avrebbero preso parte ad attività di proselitismo, divulgazione di ideologie finalizzate all'arruolamento a organismi di natura terroristica. Punto d'incontro, la piccola moschea di Sellia Marina, inserita lo scorso anno nell'elenco di siti al rischio redatto dai servizi segreti italiani. Già nel 2011 l'attenzione degli inquirenti si era concentrata sul piccolo paese della costa ionica catanzarese. Un'operazione della polizia aveva portato in manette tre persone, tra cui l'imam della moschea e suo figlio. Durante le perquisizioni furono rinvenuti video utilizzati per spiegare le tecniche per azioni kamikaze e preparare ordigni capaci di far saltare anche i mezzi militari, indagini però che non hanno trovato riscontro e naufragate.